Sono stati tanti i bolognesi che si sono concessi un giro alla 23esima edizione di Giardini e Terrazzi, la manifestazione dedicata al verde e al vivere all'aria aperta. Oltre 180 espositori presenti nel Parco dei Giardini Margherita di Bologna, tra produttori e commercianti di piante e fiori, arredamenti, complementi d'arredo per la casa e giardino, abbigliamento, artigianato artistico, vintage, pet e prodotti dei territori. La manifestazione prevede anche un ricco programma di incontri, conversazioni e seminari nei quali il protagonista assoluto è proprio il verde e la sua riscoperta dopo i mesi difficili della pandemia. Nel momento del più duro del lockdown dello scorso anno, quando ci è stato impedito di vivere il nostro verde, i nostri parchi, i nostri giardini, è stato un periodo di grande difficoltà per tutti. Quindi noi abbiamo cercato di fare diverse iniziative online ovviamente, che però non possono assolutamente eliminare questa voglia, questo grande desiderio di tutti di vivere il verde, perché per tutti noi il verdere è qualcosa che ci dà benessere, un benessere fisico, un benessere psicofisico. Ed è per questo che noi, con la rassegna che stiamo per organizzare il 17-19 settembre e che gli amici di Terrazzi e Giardini ci permettono di presentare in anteprima, vogliamo proprio parlare del paesaggio che cura, il paesaggio inteso come terapia, il paesaggio come luogo nel quale ritrovare il benessere psicofisico e nel quale soprattutto ritrovare la socialità in sicurezza.